Davide Pasquolo, seconda stagione di Lega 2, si riparte da un gruppo nuovo, si riparte da un gruppo giovane che ha tanta voglia di crescere durante l'anno soprattutto? Sì, è nuovo ma la società ha tenuto sempre qualche elemento per mantenere il gruppo e di questo ovviamente siamo contenti, tutti con la fame di voler crescere, quindi un gruppo molto voglioso con molte motivazioni, questo di sicuro. Tu hai passato un'estate con la Nazionale Sperimentale, come è stata questa esperienza? Ma è stata molto bella e anche molto formativa, perché anche andare in Cina non capita tutti i giorni, abbiamo visto realtà nuove, anche io, Spangro e Molinaro, è stata appunto formativa, secondo me è stato cestistico come persona. Dopo la stagione scorsa in cui è arrivata la Coppa, avete fatto benissimo i play-off, avete portato tantissima gente al palazzetto a vedere basket e quest'anno ce la voglia un po' di confermarsi anche da questo punto di vista? Ah beh certo, vogliamo far vedere al pubblico trentino che anche quest'anno li faremo divertire.